E' sempre stato il sogno di Dio, quello di formare un popolo, di radunarlo, di guidarlo verso la terra della libertà e della pace. Il sogno di camminare insieme con l'umanità. E la parola sinodo significa proprio camminare insieme, ha ricordato Papa Francesco all'Angelus in una gremita piazza San Pietro, dopo la messa che ha concluso l'assise sinodale. Il popolo, secondo il cuore di Dio, ha detto il Papa, è una famiglia di famiglie in cui chi fa fatica non si trova emarginato, lasciato indietro, ma riesce a stare al passo con gli altri perché questo popolo cammina sul passo degli ultimi, come si fa nelle famiglie. Come Gesù che si è fatto ultimo con gli ultimi, non per escludere i ricchi, i grandi e i primi, ma perché questo, ha affermato Francesco, è l'unico modo per salvare anche loro, per salvare tutti. E qui Francesco ha dilatato il cuore su quelle famiglie composte da migliaia di profughi che da molte settimane attraversano l'Europa con i figli in braccio, in cerca di porte aperte e solidarietà. Anche queste famiglie più sofferenti, sradicate dalle loro terre, sono state presenti con noi nel sinodo, nella nostra preghiera e nei nostri lavori, attraverso la voce di alcuni loro pastori presenti in assemblea. Queste persone in cerca di dignità, queste famiglie in cerca di pace rimangono ancora con noi. La Chiesa non le abbandona, perché fanno parte del popolo che Dio vuole liberare dalla schiavitù e guidare alla libertà. Grazie. 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 Grazie.